Scendono di nuovo in piazza i dipendenti dell'Antonio Merloni. Gli operai dell'azienda produttrice di elettrodomestici hanno manifestato ieri contro il rinvio della presentazione del piano industriale. Una protesta congiunta che ha visto impegnati i dipendenti sia a Matelica che a Fabriano nel tentativo di ottenere risposte sulla situazione della crisi del gruppo che nella peggiore dell'epotesi potrebbe portare alla perdita di migliaia di posti di lavoro. Noi chiaramente vogliamo un piano industriale che preveda la salvaguardia degli stabilimenti produttivi. Questo abbiamo sempre detto in questi anni, fino a quando l'azienda ha investito e ha detto che investiva nei lavoratori, nei posti di lavoro, ha trovato sempre in noi un aiuto concreto. Adesso abbiamo dei dubbi che questa cosa stia cambiando, per cui siamo scesi in piazza per far cambiare idea all'azienda. E la situazione degli operai si fa sempre più difficile. In giro ci sono dipendenti che hanno lavorato otto ore in un mese. La mensa dell'azienda di Fabriano chiuderà lunedì e non è da escludere un nuovo blocco alla produzione degli stabilimenti fabrianesi così come è già successo. Siamo in una situazione di insicurezza ormai totale. È insicuro chi è in cassa, è insicuro chi lavora, perché di fatto lavora a pochissimi giorni e tutto il resto è in cassa. Quindi capite bene che è una situazione dove il lavoratore, non avendo prospettive certe, si trova in una situazione di estrema difficoltà. Ed oggi c'è stato un nuovo contatto con la presidente dell'azienda, Giovanna Merloni, che è scesa ad incontrare i manifestanti che si trovavano a Fabriano. Certo è stato un incontro molto toccante, perché si capisce le difficoltà e si capisce anche l'impegno che sta mettendo Giovanna Merloni. Essendo lei anche così giovane e si trova in una situazione di difficoltà complessiva, quindi l'augurio da lavoratore e da amministratore è quello di crederci di fare il possibile affinché tutti i siti produttivi rimangano aperti. Certamente io penso che i lavoratori, come hanno sempre fatto negli ultimi anni, ma anche il sindacato farà la sua parte perché ci sia ancora una prospettiva di lavoro per tante centinaia di lavoratori. La questione sembra essere infatti peggiorata. L'Antonio Merloni da tempo non paga i suoi fornitori, che hanno così ridotto gli approvvigionamenti di materie prime. Di conseguenza la produzione è rallentata, alcuni stabilimenti di Fabriano si sono fermati, mentre a Matelica si è continuato a produrre le bombole, ma il futuro è incerto per tutti. Da settimane si attende la presentazione del nuovo piano industriale, che dovrebbe portare al salvataggio dell'azienda, ma gli operai sono scesi in piazza per chiedere maggiori garanzie. E piave sul bagnato, perché le ultime notizie hanno fatto sapere che ha anche saltato l'incontro che era previsto stamattina con il ministro Scagliola per la predisposizione degli ammortizzatori sociali. Il territorio e gli operai rimangono così di nuovo nel dubbio.